Noi conosciamo le coordinate x di A e y di A, x di B e x di C e x di y di D. La prima cosa da fare, qual è? Tramite, siccome sono coordinate cartesiane, dobbiamo trovarci le polari, no? Ci dobbiamo trovare le distanze e gli azimuth. Questa è la prima cosa da fare. Adesso, innanzitutto metto sta, ho spostuto la telecamera, adesso, se io mi voglio trovare, vado in anno, x di A e y di A uguale, ci pensiamo le valorie. Allora, x di A è negativo e y di A è negativo, vedete? Quindi di x di A sarà meno 100 metri, y di A meno 300 metri. Poi B, x di B è uguale, allora, 300, 350. Visto il ventaglio dei valori, eh? 350 y di B, che sarebbe questo qui, è uguale a, allora, questo qua, uguale a 330 metri, negativo. Lo vedete? Poi, che cosa c'è? x di B, dove si trova? Questo non è più grande di x di B, in seconda. Allora, se x di B ho messo 3,5, la c'è? Mettiamo 4,320. E in x di B, no? È più o meno 1, è evidente? Quindi mettiamo 4,10. Bene. Poi che cosa abbiamo? x di C. x di C, ascoltate, siccome ci stiamo inventando i valori, se queste 4, facciamo vedere che queste 4, 750, e y di C, se y di A abbiamo messo per 200, questo si trova più in basso. Lo vedete? Quindi, quanto mettiamo? Meno 170. E più, scusate, non meno. Quindi, ma anche x di A è più 200, e non è messo su. Perché? Ma per o e... Y di A, sei bravo. Y di A è più, bravo. Y di A. Vedete se sia tutto a posto, se c'è qualche segno negativo che non ho messo. Allora, x di A. si trova, è positivo, x di A. Vedete? Y di A è negativo. No, x di A, scusate, è negativo, y di A è positivo, scusate. Poi, B. x di B com'è? Positivo è negativo. Y di B è negativo, e ci siamo. Poi, x di D, positivo, positivo. Sia x di D che y di D. x di C, tutti e due positivi. Ok? Adesso, troviamo subito l'azmulo a D. Ok? Allora, Ad è uguale a tangente da meno 1, meno A, io non sono dici, no, ragazzi, però, quindi, x di D quant'è? Quattro e due positivi. meno x di A. Però, siccome x di A è meno, si fa meno per meno, più 100, diviso y di D è quattro cento di E. Meno y di A, meno di 100. Ok? Allora, con la cartolatrice, fai questa, prima soffi, poi divisi, poi fai tangente alla meno 1, in grad, e vedi quanto ti viene a D. Adesso, ci troviamo la distanza di, che è uguale a x di D, meno x di A, fratto y, 160 e l'interno a 30 metri. 500, 60,80 metri. Adesso, cancello, se no non posso iscrivere, e andiamo qua. Fino a qua è tutto chiaro, quindi ci siamo trovati, quest'azio e questa distanza. Cancello pure le coordinate, eh, così si può so, tanto ormai l'avete presa. In questo caso, noi abbiamo a D, a su, che è uguale a 75 gradi, virgola, 56, e abbiamo a D distanza, che è uguale a 560, virgola, 80 metri. Vedete? D, D, A, il mio reggito. In questo caso, no? D, se è a D è 75 gradi, D, quanto sarà? Dovete fare più di 200. O mi sbaglio? Ci siamo, infatti, vedete, che si trova al primo, secondo, terzo quadrato. 100, 200, 300, 400. Ricordate. Quindi, 100, 200, questo è passo a 100. È chiaro? oppure, se non siete convinti, fate tangente di D, A, X, D, no? Ok. Quindi, A è 75 gradi, virgola, 56, e possiamo sommare 200, che è uguale a 275, virgola 56. Fino a qua ci siamo, quindi ci siamo trovati pure questo. A D. A D, A. Ok? Troviamoci, Lazio, D, C. Perché si fa questo? Perché poi, no? Sottraendo, D, A, N, D, C, ci siamo trovati. È chiaro? Quindi, D, A, è, 275, D, C, tangente, D, C, uguale a X di C, meno X di D, fratto, Y di C, meno Y di D. Adesso io, ho cancellato, i, dati, X di C quant'è? Dimelo. Nel 750, meno 400, 750, meno 400, dai attento se ci sono i negativi, meno per meno, ok? Poi? Un altro, 180, eh, meno 410, meno 400, ma Y di D è negativo? No, è positivo, quindi. Allora, fai tangente da meno 1 di questo, di questa divisione, e vediamo quanto esce. Qua dov'è? non fa niente se è il negativo. Allora, quindi, D, C, è uguale a meno 59,06, adesso, siccome, questo è il negativo, e siccome il mio, di C, a sinistro reale, dove si trova? Il secondo quadrato, che fa? Develo 59 più 300. Da quanto riesce? 140, e infatti, vedete? Quindi, più 200, è uguale a 140, 0,3, 0,4, e ci siamo. Vi trovate anche? la distanza, di C, che è uguale a, x di C, meno x di D, fratto, il seno di C, me la trovi direttamente? Mi raccomando, clicca, pensate bene. 408, 408, fa la polettura, vediamo se esce, 408, 0,4, ok, adesso, come dicevo prima, visto che abbiamo questi due azimut, ci troviamo bene, delta è uguale a, di A, azimut, meno dC, quindi, di A è 15,75, virgola 56, dC è 140, quanto fa? questo angolo, 135, quindi 135, virgola, 513, ok, e ci siamo trovati quest'anno, adesso, si può fare, come volete, pure prima trovare gli azimut, e poi gli angoli interni, oppure fare azimut, gli angoli interni, eccetera, eccetera, adesso, andiamo in C, a noi, ci serve, praticamente, innanzitutto, se conosciamo di C, no, conosciamo pure il R, ciclo, o mi sbaglio, perché? perché, se l'azimut di C è 140, virgola 0304, devo aggiungere cosa? 200, e mi trovo il reciproco, quindi, più 200, è uguale a 340, virgola 0304, questo è il mio C, di reciproco, ci siamo? avete visto come si lavora? quindi, questo è il 340, lineato che il DC, azimut. Adesso, per trovare questo gamma, che dobbiamo fare? Dobbiamo trovare C, B, ok? qui, C, B, anzi, non è uguale a, tangente di C, B, X di B, meno X di C, fratto, Y di B, meno Y di C. In questo caso, che succede? X di B quant'è? Avete tutti i dati, vi fate questa operazione, 42,95, 53, 42,95, ok, vedete, questo C, B, è 42,95, ma secondo voi, è giusto? no, riesce a tutti i 45, e quindi che dobbiamo fare? che dobbiamo aggiungere? per arrivare qui, guardate, se è 42, non dobbiamo aggiungere 200, ecco, sì o no? sì, ma avete capito? perché guardate, il reale, ascoltate, si trova al terzo quadrato, quello trovato, è di 42 gradi, più di uno quadrato, quindi, che dobbiamo fare? 42 più 200, e qui è il 241, è chiaro questa cosa? quindi, C, B, è uguale a 42, o no? ho rispetto, adesso, mi trovo la distanza CP, qui, X di P, meno I, S di C, fratto, Y, esegra, seno, di C di P, quanto viene? 640, 640, 641, no? guardate, guardate, io conosco, A, D, lo conosco ok poi che conosco l'angolo delta lo conosco si la mettiamo del barretto poi bc lo conosco si bc lo conosco si l'angolo gamma come si fa? come si trova l'angolo gamma? facendo cd meno meno cd allora ascoltate voi vi dovete trovare stante quindi fate cd meno cd o no? quanta 7 0 0 quanto vi viene? quanta 7 0 0 ok quindi conosciamo pure questo adesso secondo povero questo è un cosiddetto io lo posso risolvere anche come? dividendolo in metriano quindi non c'è la base della contrenza quindi ci serve perché se io lo divido in metriano però questo di b me lo posso trovare con da questa parte io io avrei questo lato questo lato però non ci piace quindi almeno un altro anno lo devo trovare o mi sbaglio è perché se no se fanno vedete questo triangolo è semplice in questo caso no? se uno lavora per coordinate trova pure questi due con lo stesso procedimento però se l'esercizio mi dice di trovare poi dividere la figura in due triangoli in questo caso a po' vi serve conoscere almeno un altro attraccolo ok allora se io siccome mi sono trovato prima a di azimut e a di distanza no? mi posso trovare a b azimut conoscendo a b azimut mi trovo a facendo a b con di se vi dice l'esercizio dovete dividere adesso il quadrilatto dei due triangoli e dovete risolvere i triangoli con i teoremi allora vi dovete trovare le incognite che vi servono per risolvere questi due triangoli questo ce l'abbiamo il soft play no perché avevo due lati e l'angolo compreso io vi trovo questo lato qui in conno facciamo ok ah scherzo eh perché se no posso cancellare quindi fino a qua tutto piatto vi ricordate che avevo tutte scorse dovevo fare i quadrilatti non abbiamo certo detto di farlo no di farlo a casa vi ricordate che quell'esercizio non vi dava le coordinate caprici alle polari quindi bisognava intervenire o con Carnot o con il teorema dei semi così ripetiamo un po' di triacoli perché in questo modo non vi dava non vi dava sporcato non so Allora, adesso risolviamo D-B con il canale di B è uguale alla radice quadrata di cosa di Bc al quadrato più Cd al quadrato meno 2 di moltimica Bc per Cd per il coseno di cosa di radica Sostituite i valori a i valori numerici alle lettere D-B quanto vi viene? Questa qui? 740B 3872 740B 738 Vedete? Adesso io conosco tre lati le cose che non hanno per trovare beta 1 e gamma 1 che cosa faccio? Teorema dei 6 Allora, se questo è gamma 1, vedete? Eh, scusate, è beta 1 No, no Beta 1 E questo qui è gamma 1 Che faccio? Mi trovo un'anima con il teorema dei 6 Poi facendo 200 meno la somma delle angoli mi trovo l'anima Quale vi volete trovare? Gamma 1 o beta 1? Sì Eh, è beta 1 Sì Ma è beta 1? Sì, ma è beta 1 Questo qui Perché ho ottimiso la piccola di un triangolo Che ci vogliamo trovare? È beta 1? Io trovo beta 1 È la stessa cosa Allora Quindi Teorema dei 6 BC Sta al seno di del triangolo No? Lo può fare come vuoi? Lo può fare come vuoi Il teorema dei 6 Ve l'ho detto pure alla pastora Ossera È più semplice A livello di calcoli Però è la stessa cosa Li dovete conoscere tutti e due Decidi tu quale fare Nessun esercizio vi dice Non lo dovete fare È in corso l'opera Right? Quindi BC Tu l'ha fatto a contatto a quale L'ho facendo tu di serie Così vediamo se Eh Viene lo stesso genotato Sta Al seno Di beta 1 Come Di B Che ci siamo provati O di B Sta al seno Di gamma Quindi Seno Di beta Prima uguale a BC Che moltiplica il seno di gamma Fratto B B Adesso Che fate Sostituite i valori 1,96 96 96 Avete visto? Adesso Per trovare Beta 1 Come si fa? 200 Meno beta 1 Più gamma E' chiaro? 36 gradi? 36 gradi 95 95 Ok Abbiamo risolto Questo triangolo E' chiaro? Il secondo È semplice Perché? Perché io Adesso vi voglio spiegare Come si trova l'aria Con Gauss E allora Il secondo Basta Che voi Troviate Cosa? Un angolo Ok? L'altro È un angolo Potete trovarvi Cosa? Secondo Cosa?